Buongiorno, siamo all'alleve della testata. Oggi prepareremo una brioche con gli avanzi di cesso di massina in frigo, in questo caso della pera sciroppata che metteremo nell'impasto e poi useremo le lattine per cuocere la brioche. Gli ingredienti che utilizzeremo sono i seguenti, ovvero i tuorli, la farina, le uova, il sale, il lievito, il malto, il latte, lo zucchero al burro. All'interno della planetaria metteremo la farina, i brioche, Il lievito A punto che l'impasto si è fermato aggiungeremo lo zucchero. Adesso aggiungeremo le pere Impasteremo ancora per un minuto e poi lo lasceremo lievitare. Adesso tagliamo l'impasto e creiamo delle piccole palline che dovrebbero pesare circa 80 grammi e poi le lasciamo lievitare circa un'ora. La pallina è pronta e adesso la metteremo nel continitore a lievitare. Per rendere più golosa la nostra brioche abbiamo deciso di aggiungere una glassa di nocciola e cacao. Le nostre brioche sono appena state sfornate e adesso saranno degustate.